Lo so, potrebbe essere un delitto probabilmente tagliare così di netto Save It For Leather di Eddie Vedder che fa parte della colonna sonora della terza stagione di The Beer, questa è una cover di una band, dei beat, band inglese, insomma conosciuta in America come English Beat, ma in realtà alle 10.43.24, dandovi il benvenuto ancora una volta ad almeno due pagine al giorno, vogliamo parlare di cinema e non possiamo non farlo con la mia ospite di cui sono veramente molto felice di aver raccolto la sua disponibilità, intanto benvenuta su RBR Radio TV a Ilaria Feule in collegamento con noi, ciao Ilaria, buongiorno, benvenuta. Ciao Francesco, buongiorno e grazie per l'invito. È un vero piacere poter avere la possibilità di conversare con te che scrivi di cinema, di serialità per il settimanale Film TV, fa parte del comitato di selezione della settimana internazionale della critica della mostra di Venezia e autrice di monografie su Wes Anderson di un libro tra l'altro clamoroso C'era una volta in America di Sergio Leone pubblicato da Gremese e anche tra gli autori di Tutto Fellini, sempre Gremese 2019, Architettura e del Desiderio, il cinema di Celine Sciamma per Asterisco 2021. Dicevo è un onore poter parlare con te di cinema ma parlare di, l'abbiamo citato poco fa, di una serie tv che in realtà negli ultimi anni ha un po' secondo me, almeno quanto meno negli ultimi due, insomma siamo alla terza stagione di The Beer, ha un po' rimescolato le carte della serialità perché parliamo di una serie tv con i canoni se vogliamo anche del racconto classico ma in realtà che a un certo punto però sconvolgono un po' anche la proposta della serialità a livello mondiale. Allora The Beer dentro una overdose di ragionamenti e di immagini sulla cucina, qui si entra dentro la cucina ma si entra anche dentro la pancia e le vene dei protagonisti. Allora se dovessimo fare una fotografia intanto per cominciare Ilaria di The Beer, da dove possiamo partire? Come dobbiamo posizionare diciamo questa, come possiamo posizionare questa serie tv? Intanto grazie per l'introduzione, è troppo buono, The Beer è stato sicuramente un colpo di fulmine sia per il pubblico sia per la critica, questo poi magari ci torniamo dopo, perché ha secondo me saputo raccogliere quello che dicevi tu, cioè la capacità di mettere in scena un racconto classico, la prima stagione sembra davvero quasi avere il respiro e lo spirito di un film indipendente, sembra di guardare un film a basso budget, un film indie come la tradizione statunitense ci ha abituati a vedere, ma raccogliendo tutto ciò che di meglio la cosiddetta prestigio tv degli ultimi 10-15 anni ha insegnato al mezzo seriale, per cui ci sono sì un coro di personaggi che impariamo a conoscere un po' alla volta, ma le puntate ci guidano a volte anche approfondendo uno dei singoli personaggi con questi detour, queste deviazioni improvvise che ci portano anche lontani geograficamente, pensiamo nella seconda bellissima stagione alla puntata ambientata a Copenhagen, dove Marcus cerca di diventare un vero pasticcere. Ci sono tutte queste piccole aperture, queste deviazioni che portano lontani dalla struttura classica della serialità, come siamo abituati a intenderla. E sicuramente ha saputo raccogliere quello che accennavi tu, quindi questo ormai inarrestabile trend della mania del cibo, il food porn e tutti i vari food show che ormai proliferano a ogni angolo della S2, dove dovunque apriamo c'è questa tendenza, e l'ha raccolto però mostrandoci in qualche modo il lato oscuro, perché comunque siamo trascinati, proprio sbattuti di prepotenza, nel dietro le quinte di che cosa significa cucinare, di cosa significa portare questi piatti sul tavolo degli avventori, ed è un mondo da incubo, è un mondo frenetico, è un mondo ansiogeno, è un mondo anche tossico, dove anche le relazioni diventano tossiche, le relazioni tra i collaboratori, tra capo e dipendenti, è un mondo in cui è inevitabile rispecchiarsi, questo credo sia uno dei punti di forza della serie, anche chi non ha mai messo un piede in una cucina, trova comunque degli aspetti su cui rispecchiare il proprio posto di lavoro, che può essere diversissimo, può non avere niente a che vedere con il cibo e l'arte culinaria, ma la struttura che De Behr dipinge, quella di dovercela fare a tutti i costi, avere una grande fretta, viviamo davvero nell'epoca della fretta, e la seconda stagione ribadendo continuamente ogni secondo conta, ci dà anche questa sensazione, credo che ognuno di noi possa un po' immedesimarsi in questa sensazione che la serie ci dà del mondo del lavoro. Ogni secondo conta il tema del tempo è, come dire, scolpito dentro la pietra, dentro anche, e scorre anche un po' sui fuochi di quei fornelli in realtà, perché il tempo è fondamentale, così come dice tanto, diciamo, anche di quello che siamo, perché tutti abbiamo a che fare, diciamo, con l'elemento del cibo, e c'è una frase che tu scrivevi all'interno della recensione della seconda stagione, dicendo che niente dice dell'amore, del narcisismo, quanto il gesto di nutrire i propri cari, perché anche preparare semplicemente, come dire, un piatto veloce, diciamo, per uno dei personaggi della serie, da parte di uno dei protagonisti, ci racconta della cura, perché c'è, insomma, anche il racconto di piatti meravigliosi, cioè meravigliosamente impostati, ma che nascondono però dietro una grande, come dire, una grande, c'è tanto tribolare, diciamo, dei vari personaggi, scusami se sono probabilmente anche un po' banale scontato nelle definizioni, perché molti personaggi sono personaggi anche che si sentono un po' strappati via dalla vita, c'è una battuta di un personaggio a cui gli viene chiesto come ti senti, come un disegno sulla lavagna magica, cioè cancellabile, quindi c'è una transitorietà dei personaggi che però raccontano anche di quello che siamo noi, perché questa è una serie anche che ragiona sul tema del fallimento, insomma, e nel mondo della gastronomia guai a fallire, no? Assolutamente sì, il fallimento è uno dei temi centrali e secondo me è un altro dei punti di forza, viviamo davvero in un'epoca in cui siamo tutti chiamati a dipingere un'immagine di noi, magari non ce ne rendiamo neanche conto, ma ogni volta che usiamo un social, uno qualsiasi dei nostri social, comunque stiamo dipingendo una nostra immagine che gli altri fruiscono e quindi è difficile ammettere i fallimenti, è difficile dare un'immagine di sé non vincente, non felice, se apriamo Instagram è pieno di immagini di felicità altrui e di successi altrui, e De Beers si inserisce davvero in questa nevrosi che viviamo, parlando invece di personaggi che falliscono, che non sono all'altezza delle proprie aspettative prima di tutto e poi di quelle degli altri e questo è davvero cruciale nella serie e lo è, lo diventa in maniera ancora più dolorosa nella terza stagione, quella che è appena, meno di un mese fa è stata distribuita in Italia, dove davvero c'è un tema ricorrente di tanti personaggi, anche marginali, dell'idea di poter lasciare andare finalmente, di non dover per forza raggiungere quell'obiettivo, non dover per forza essere i migliori e qua c'è un tema molto importante in De Beers che è quello della salute mentale, qualcosa che sempre di più cerchiamo di mettere a fuoco, se ne parla ogni tanto, ma ancora non abbastanza e sicuramente quello che dicevo prima non ci fa vivere bene, il dover apparire sempre felici e soddisfatti non è un modo per essere realmente felici e De Beers mette al centro anche la salute mentale e che cosa questi ritmi, questo stile, questo modo di lavorare e di vivere ci impone e quello che accennavi prima sulla cura dell'impiattare, come tutti questi programmi ci hanno insegnato a dire, l'impiattamento è il momento fondamentale, è molto interessante in De Beers perché la prima stagione si svolge ancora in un fast food sostanzialmente, è una paninoteca diremmo, il piatto tipico è questo enorme panino tipico di Chicago che è farcito di roast beef e giardiniera e sarebbe un piatto italo-americano per eccellenza, ma lo step successivo, il grande upgrade che Carmi Berzatto mette in atto è di farlo diventare invece un ristorante di lusso, un ristorante di quelli dove se ne parla e la gente fa la coda per prenotare e quindi cambia tutto, i piatti diventano sofisticati, le porzioni diventano piccole ma artistiche, eppure è quello che scrivevo nella recensione che citavi, è che appunto c'è sia una forma di narcisismo, guarda cosa sto facendo, guarda questo piatto, come esprime la mia bravura, d'altro canto però ogni piatto che vediamo preparato in De Beers, anche una semplice omelette, c'è una scena struggente in cui viene preparato un omelette, così all'impronta giusto perché qualcuno ha fame e lì c'è tutto l'amore che si può mettere nel cibo perché De Beers, e qua apro una cosa che magari poi portiamo avanti dopo, è anche un grande ritratto familiare e la famiglia nel senso più esteso possibile, nel senso di rete amicale, parentale, tutto quello che ci tiene in vita e che dà un senso alla nostra esistenza, che sono gli altri. Ecco, dicevi della famiglia, ci sono ovviamente, l'invito innanzitutto è a guardare questa serie perché in realtà ci sono degli episodi, se penso all'episodio tra virgolette natalizio della seconda stagione, che è un film autonomo, se possiamo dire così, insomma ci racconta di tante dinamiche, anche di alcuni natali che abbiamo vissuto anche un po' noi, se vogliamo, no? perché se vogliamo le conflittualità probabilmente nelle giornate di Natale vengono fuori in maniera molto forte, ma a livello, diciamo, di cinema, perché è puro cinema, quello di De Beers sono esplosive, devo dire, così come anche la figura, diciamo, degli attori, ma anche dei grandi nomi che partecipano. Qui c'è stata addirittura la fila per partecipare anche soltanto ad un cameo, perché, insomma, evidentemente partecipare a quel set, a quell'esperienza cinematografica è stato un momento di grande ambizione per tanti, insomma, se penso a Olivia Colman, straordinaria, strepitosa, ma anche altri, Josh Hartnett, Bob Odenkirk, e, insomma, devo dire che il livello è di una, diciamo che quasi vertiginoso, devo dire, anche nella prestazione, no? Diciamo, davanti alla telecamera. Che ne pensi, Ilaria? Eh, sì, ci sono tantissime guest star e davvero a un certo punto sembrava che, insomma, non contavi niente se non riuscivi ad apparire in De Beers, a un certo punto sembrava quasi come se fosse uno standardo che gli attori potevano apporsi. Quelli che hai citato, sicuramente, e aggiungo Gianni Ricartis, che è la protagonista assoluta dell'episodio straordinario, Pesci, Fishes, nella seconda stagione, indubbiamente la qualità artistica di De Beers ha attirato l'attenzione di questi attori, perché davvero ha un respiro in tante puntate cinematografico. Che cosa intendiamo con cinematografico? Che non, a differenza di serie che magari hanno uno schema più ripetitivo e che ci abituano agli ambienti, ai personaggi, ripetendo anche le stesse inquadrature, gli stessi punti macchina, insomma, facendoci entrare nel mondo un po' alla volta, che è tipico della comedy, e qui faccio un piccolo appunto, che De Beers è spesso infilata nella categoria comedy, nei premi principali della serialità, e questa cosa ci lascia tutti molto perplessi. Parecchio. Parecchio perplessi, ma De Beers invece ha alcuni episodi che sono girati quasi interamente in piano sequenza, che è una cosa piuttosto eccezionale per una serie TV, perché le serie TV tendono ad avere ritmi di lavorazione più rapidi, quindi riprese più efficaci, più semplici, più agili, e un piano sequenza richiede tantissima preparazione, prove sugli spazi, ripetere magari il piano sequenza più volte finché non si raggiunge il risultato, quindi richiede davvero più impegno, quindi un tipo di regia che richiede anche più attenzione da parte dello spettatore, e questo è importante. Con De Beers abbiamo un rapporto diverso rispetto ad altre serie, sicuramente rispetto alle altre comedy, e siamo più chiamati a essere coinvolti anche dal modo in cui la messa in scena ci chiede di stare attenti. Episodi come Pesci, o come l'episodio nella terza stagione che ha diretto proprio una delle star della serie Ayo e De Beery, dedicato interamente al personaggio di Tina, sono dei lunghi flashback, anziché piazzare il flashback soltanto in un frammento della puntata, abbiamo interi episodi che ci raccontano da dove arrivano questi personaggi, quali sono i loro traumi, quali sono i loro pregressi che ci aiutano a avere una partecipazione emotiva anche più forte, e anche credo il modo di lavorare, perché poi aggiungo solo quest'ultima cosa, De Beery è anche una meta serie, quello che racconta la squadra, quindi la crew, la frenesia, il desiderio di essere messi sulla mappa, di essere apprezzati, ammirati, ci parla molto anche del mondo della serialità odierna. Non è un caso che stiamo parlando di tre stagioni girate in due anni, che è un ritmo veramente sostenuto, la quarta peraltro è già stata girata, perché le hanno girate contemporaneamente terza e quarta annata, e di conseguenza parliamo di ritmi molto sostenuti, quindi De Beery è anche un po' una metafora di come si lavora nell'ambiente della serialità, e che però lascia anche spazio di improvvisazione, di grande collaborazione ai suoi attori, e credo che anche questo abbia richiamato appunto nomi clamorosi da premio Oscar, come Olivia Colman e Jamie Lee Curtis, o nomi clamorosi della serialità televisiva, come Bob Odenkirk. Esibivo poco fa mentre parlavi il numero di serial minds diciamo uscito quest'anno, che raccontano le serie tv del 2023, ecco qui perché insomma te ne sei occupato tu anche nell'ampia introduzione, insomma mi sembra di capire, perché qua il tempo vola, ormai siamo già quasi in chiusura, mi sembra di capire che comunque lo stato di salute della serialità diciamo è un buon stato di salute, se vogliamo, nonostante diciamo tutte le difficoltà, anche lo sciopero insomma di qualche tempo fa, però insomma ti chiederei soltanto una riflessione, se possiamo, al volo, sull'ultima mossa del cinema di Venezia, perché tu dicevi vorrei vincesse la stanza accanto di Ammodovar, invece vincerà The Brutalist di Brady Corbett, Brady Corbett ha vinto il Leone d'Argento e invece Ammodovar ha vinto la stanza, con la stanza accanto il Leone d'Oro, insomma è stata una ottantonesima edizione notevole o no? Lo è stata, dal mio punto di vista la giuria di Isabelle Huppert è stata veramente impeccabile e infatti appunto auspicavo che Ammodovar vincesse il Leone d'Oro non ha mai vinto nella sua lunga carriera e lo merita, questo è anche un po' volendo un premio alla carriera per quanto mi riguarda perché la stanza accanto è davvero un po' la summa di un autore, è un film limpidissimo, un film che soltanto un maestro può firmare, avevamo in tanti pensato che il premio principale sarebbe andato a The Brutalist che è stato il film clamoroso della mostra, fluviale, lunghissimo, con l'intervallo in mezzo, insomma con una regia davvero magniloquente, davvero ambiziosissima e giustamente premiato per la regia, alcuni altri film molto attesi personalmente mi hanno lasciato al più indifferente come per esempio il nuovo Joker, poi insomma quando lo vedremo tutti ci sarà modo di riparlarne però l'ho trovato un sequel veramente poco all'altezza delle aspettative ma sicuramente si sono viste cose molto stimolanti ecco che poi ci lasciano davanti una stagione cinematografica promettente. Maura del Pero Vermiglio ne scrivevi diciamo in maniera molto molto positiva così come anche di Linda e il Pollo dicevi adesso è finita la è finita la la mossa del cinema andate a vedere Linda e il Pollo due battute su questi due film differenti tra di loro ovviamente Certo Linda e il Pollo è uno dei gioielli di quest'anno è consigliatissimo un film d'animazione per tutti intelligentissimo che parla di cose complicate come l'elaborazione del lutto come un dolore familiare come la voglia di vivere nonostante appunto una perdita e lo fa con una intelligenza con una grazia veramente senza senza pari e quindi assolutamente consigliato Vermiglio di Mauro Delpero che è stato tra i film premiati ha vinto il secondo più importante premio di quest'anno a Venezia è un film che racconta di una famiglia alla fine della seconda guerra mondiale e attraverso questa famiglia racconta anche un po' dell'Italia di quell'epoca un'Italia che è ancora molto lontana dall'essere una nazione unita e che però ha voglia di libertà e lo fa in un modo che rompe davvero gli schemi col cinema storico un po' paludato un po' ingessato a cui siamo abituati e diventa anche quindi quasi una commedia familiare a tratti assolutamente pieno di punti di vista interessanti ci fa appoggiare i punti di vista di tutti i personaggi che siano adulti o che siano bambini e questo ci rende molto coinvolti quindi questo esce tra pochi giorni in sala lo consiglio assolutamente e allora grazie anche per la capacità notevole di sintesi a Ilaria Feole grazie per essere stato ad almeno due pagine al giorno buon lavoro seguitela sui social su film tv insomma un milione di attività che avrei voluto segnalare ma lo faremo un'altra volta ne parlerò anche poi diciamo nella sezione post del podcast delle varie attività Ilaria grazie ancora spero sia stato un buon tempo per te buona giornata certo grazie grazie a voi grazie a voi